Buongiorno, buon pomeriggio e vista l'ora, buon pranzo cari amici in questa nuova settimana di settembre. Oggi siamo a lunedì 21 settembre 2020, sono ore 13 e 15 minuti prima. Bene, anche se siamo purtroppo come ogni situazione condominiale qui nel cortile prospiciente alla zona qui davanti, a casa nostra, cucina, il caos più totale, non so se si sentono sottofondo dei rumori, vabbè, l'agenda ormai non sta più bene, non ragiona più nessuno, vabbè. A parte questa cosa parliamo del vero obiettivo di questo video, Juventus Sampdoria è il primo postispo domenical del nuovo campionato di Serie A, la Juve alla meglio sulla Doria per 3 a 0, con le reti di Kulusevski al tredicesimo del primo tempo, di Bonucci al settantottesimo e di Cristiano Ronaldo all'ottantottesimo. Nonostante il Sampdoria abbia fatto entrare tre giocatori in campo al quarantaseesimo, quindi all'inizio del secondo tempo, ma il tutto non è bastato. Comunque, secondo me, vabbè, sicuramente il livello tra Juventus e Sampdoria lo sappiamo, però diciamo che almeno un golletto della Sampdoria me lo aspettavo, che non era quale era alla mano. Quindi, intanto, almeno per ora ci saranno altri due video, poi in attesa che esca l'andeprima ufficiale della puntata odierna di WWE Montenegro, avete tantissimo di buon materiale che vi ho messo a disposizione qui sul mio canale, quindi ridiamo la linea allo studio, ribadiamo, nel primo postispo domenicale della Serie A, la Juventus, la meglio in casa, l'Allian Stadium, e non dimentichiamo, davanti a mille spettatori distanziati, protocollo Covid, batte 3 a 0 la Sampdoria, ribadisco, Redi, Kusevski, Bonucci e Cristiano Ronaldo. Grazie a tutti, alla prossima, ciao! Ciao!